Nel discorso di insediamento è vassunto, come ho ricordato, la gente comune come punto di riferimento per saldare, come disse, passato e futuro, auspicando una nuova solidarietà per valori non soltanto personali ma soprattutto comunitari. Per avere speranza civile, disse, c'è bisogno di una giustizia sociale che non sia calata dall'alto, ma condivisa e prodotta dai cittadini, aggiungendo che lo sviluppo non si traduce in speranza civile se non si unisce alla capacità di risolvere i due grandi problemi della nostra vita nazionale, la disoccupazione e la retratezza delle aree meridionali. Parole lungimiranti di un italiano che ha strevito il Paese con tutta la forza di cui è stato capace, del quale oggi, a dieci anni dalla scomparsa, onoriamo la memoria.